Tutto parte da questo messaggio in cui si dice che il proprio conto in home banking è stato bloccato. Nelle sms poi si danno anche le presunte istruzioni per aprire un secondo file, un passo che però si è rivelato fatale per chi l'ha compiuto. In questo modo, infatti, i clienti si sono trovati svuotati il conto corrente, un'ondata di truffe che ha colpito i risparmiatori del Monte dei Paschi, e soprattutto ad Arezzo, dove ci sono state 25 denunce solo nella mattinata di giovedì alla Polizia Postale. Gli ammanchi denunciati vanno dai 4.000 ai 24.000 euro. Per la Polizia Postale, quella che agisce è un'organizzazione di alto livello, capace di intercettare clienti veri a cui manda un messaggio proprio della loro banca. Il passaggio chiave è quando vengono utilizzate le istruzioni per riaprire un nuovo conto in home banking. Una volta inserite le credenziali, infatti, queste forniscono ai truffatori il modo per svuotare i conti. Nel raccogliere le denunce, la raccomandazione agli utenti della Polizia Postale adesso è quella di non aprire le mail di alcun istituto bancario.